Ho già appoggiato l'albero sul piano della pressa. Ho inserito la sua ghiera paraolio, quella in alluminio, e la sua guarnizione nuova di carta. Ora dobbiamo inserire il cuscinetto conico a rulli. Prima di tutto utilizziamo un po' di lubrificante così da aiutare la discesa del cuscinetto sull'albero. Puliamo bene il cuscinetto e ricordiamoci che va montato con la parte conica verso l'alto, la parte opposta al mandrino. Infiliamo il cuscinetto sull'albero e facciamolo scendere fino ad appoggiare alla sua sede. Per evitare di rovinare il cuscinetto ho costruito un anello adattatore con un gradino così che lo stesso appoggi perfettamente al centro del cuscinetto e rimanga sollevato rispetto alla gabbia. Su questo anello appoggi un tubo di diametro adeguato e per ultimo un tappo per poter far pressione con la pressa. Ora allineiamo bene tutti i pezzi e iniziamo a fare pressione con la pressa. Continuiamo a fare pressione con la pressa fino a quando il cuscinetto arriva alla fine della sua sede. Ce ne accorgiamo perché la pressa farà molta fatica. Per poter rimontare la scatola del mandrino e del controllo velocità bisogna eseguire una sequenza precisa altrimenti sarà impossibile completare il montaggio. Il primo pezzo da dover rimontare è il perno della manopola in basso la scatola. Prendiamo un nuovo O-ring del diametro adeguato, lubrifichiamolo con un po' di olio così da aiutarlo ad entrare senza fatica e lo facciamo scorrere fino ad incastrarlo nella sua sede. Ora lubrifichiamo bene tutto il perno per aiutarlo a scorrere nel foro della scatola. Il perno va infilato dove sto infilando io la barra d'alluminio. Infiliamo il perno in questo foro e spingiamolo fino a fine corsa. Il diametro maggiore bloccherà lo scorrimento in posizione. Lasciamolo in posizione verticale. Prendiamo il blocchetto di ottone a forma di parallelepipedo, lubrifichiamolo e incastriamo il perno sporgente nel foro del blocchetto. Proseguiamo con il perno per il controllo della vite senza fine. Questo perno viene montato dall'esterno, perciò prima del montaggio va inserita la guarnizione di tenuta. Utilizziamo un po' di olio per lubrificare bene tutta la guarnizione. Ora dobbiamo far passare il perno dentro la guarnizione, avendo cura di verificare i fori. Infiliamo il perno attraverso il foro nella scatola di ghisa, senza però spingerlo completamente. Prendiamo l'ingranaggio che va montato con i denti verso la scatola. Appoggiamo l'ingranaggio in prossimità del foro e centrando la sede per il blocchetto di ottone. Poi spingiamo l'albero facendo attenzione alla posizione della chiavetta. Farlo ruotare finché la chiavetta si innesta correttamente dentro l'ingranaggio. Per non rovinare la guarnizione utilizziamo qualcosa per tenerla in posizione. Un cacciavite va benissimo utilizzando uno dei fori a disposizione. Una volta installato l'ingranaggio verifichiamo che muovendo l'alberino questo si sposti con facilità e sia libero da impedimenti. Infiliamo il raschiamento sull'albero adiacente. L'ingranaggio che è simmetrico e si può montare in ambedue le direzioni. La rondella di tenuta e per ultimo il seggio e ramolla. I primi due ingranaggi sono montati, scorrono liberamente e la leva sposta l'ingranaggio nelle due direzioni. Ora utilizzerò qualche vite così da tenere ferma la guarnizione nella sua posizione ed evitare di rovinarla. Possiamo procedere nel fissare le due viti di tenuta dell'albero che abbiamo appena montato. Non stringiamo completamente le viti, il bloccaggio lo faremo al termine così da avere una pressione simile su tutte le viti della guarnizione. Adesso passiamo alla seconda fase del montaggio e montiamo l'albero principale, quello che abbiamo assemblato in precedenza con la pressa. Su questo albero devono essere montati tre ingranaggi. I primi due si incastrano uno nell'altro e vanno montati in una direzione mostrata. Sfiliamo l'albero quanto basta per poter inserire i primi due ingranaggi ed una volta fatto infilare il terzo ingranaggio, facendo molta attenzione alla direzione di inserimento. Questo ultimo ingranaggio ha una sede per la chiavetta. L'albero ha delle sedi longitudinali per bloccare gli ingranaggi. Per aiutarli a scorrere e metterli in posizione ruotiamo manualmente l'albero per aiutare gli ingranaggi a posizionarsi correttamente in queste sedi. Dal lato del mandrino posizioniamo correttamente la guarnizione così da farla coincidere con i fori presenti. Poi posizioniamo l'anello di tenuta di alluminio nella propria sede. In questo punto va infilato un anello di tenuta per bloccare e limitare la corsa degli ingranaggi. L'albero è tenuto in posizione dal secondo cuscinetto conico che con la sua ghiera di serraggio i due cuscinetti verranno premuti per eliminare i giochi longitudinari e per farlo ruotare perfettamente al centro. Procediamo con l'ultimo albero ingranaggi. Questo albero è composto da un ingranaggio scorrevole, nel mio caso da due raschiamenti rettificati e da un ultimo ingranaggio che si incastra nel precedente. Il leveraggio provvederà a fare scorrere gli ingranaggi uno dentro l'altro, fare passare l'albero nel foro e incastare il primo ingranaggio, facendo ruotare l'albero fino a trovare dove si innestra nell'ingranaggio. Infilare i due raschiamenti che nel video ho dimenticato di usarli e sono rimasti sulla cima della scatola. Per ultimo infiliamo il secondo ingranaggio e mettiamolo in posizione. Facciamo scorrere tutto l'insieme ed infiliamo l'albero nella boccola dalla parte opposta. Possiamo procedere con il montaggio dei blocchi di alluminio dal lato opposto al mandrino. Questi due blocchi hanno una posizione e vanno montati nella direzione mostrata. Attenzione ai due rigonfiamenti, servono per il recupero dell'olio e vanno montati in corrispondenza del buco della parte inferiore. Blocchiamolo in posizioni con tre viti a taglio e serriamo ma non blocchiamo completamente. Aspetteremo che tutte le viti siano montate così da premere la guarnizione in modo corretto. Infiliamo il cuscinetto conico che andrà poi inserito utilizzando la pressa, così da spingerlo sull'albero fino a lasciare libero tre quarti del filetto per l'anello di spinta filettato. Come si può notare il cuscinetto appoggia sulla sede e non lascia vedere la parte filettata. Sarebbe perciò impossibile tirarlo con la sua ghiera. Nelle immagini allegate si può vedere come ho fatto calzare il cuscinetto e gli attrezzi utilizzati per l'operazione. Posizioniamo e fissiamo la ghiera di alluminio dal lato mandrino facendo attenzione a posizionare il rigonfiamento per il recupero dell'olio in basso. Utilizziamo i dadi esagonali e serriamo come al solito non definitivamente. Ora passiamo alla parte più complessa della procedura di rimontaggio. Dobbiamo spingere il cuscinetto in posizione utilizzando la ghiera filettata. Serve una chiave a settori per poter tirare la ghiera. Dobbiamo stringere fino a fare sparire completamente il gioco longitudinale dell'albero. Sul manuale non esiste nessuna specifica sulla coppia di serraggio. Perciò io di solito tiro la ghiera fino a quando l'albero fa un po' resistenza alla rotazione per poi riallentarlo un poco. Naturalmente questa operazione andrà eseguita una seconda volta dopo qualche ora di lavoro cioè quando i cuscinetti si saranno rovati. Una volta portato in posizione il cuscinetto possiamo smontare la ghiera così da poter rimontare la flangia di alluminio che andrà montata in questo modo. Posizioniamo la flangia nella sua sede e fissiamola con tre viti a taglio. Una volta montate ora possiamo serrare in modo definitivo tutte le viti da questo lato. Stringere tutte le vite completamente seguendo uno schema croce e continuando a farlo sino a quando saranno tutte bloccate perfettamente. Rimontiamo la ghiera filettata e portiamola imbattuta contro il cuscinetto. Giunti a questo punto non ci resta che serrare in modo definitivo la ghiera. Con la chiave a settore dobbiamo stringerla fino ad eliminare completamente il gioco dell'albero in senso longitudinale. Continuiamo a stringere fino a quando la rotazione inizia a diventare più dura e poi allentiamo poco poco. L'albero deve girare liberamente senza alcun gioco. Quando terminato usare la vite di serraggio per bloccare la ghiera in modo definitiva. Per terminare dobbiamo rimontare le due aste per il controllo della velocità di rotazione. Prendiamo due nuovi o-ring, li lubrifichiamo e li inseriamo sulle aste, sino a spingerli nelle loro sedi, prima da un lato e poi dall'altro. Lubrifichiamo entrambe gli alberi per aiutarli a scorrere meglio e a non rovinare gli o-ring durante l'inserimento. Ora vanno infilati nelle loro sedi e spinti fino a circa metà corsa, prima un albero e poi l'altro. Per rimontare le leve di comando è necessario verificarne il senso. Vanno montate con la vite esagonale verso il centro della scatola così da poterla stringere. Montiamo il blocchetto di attone e appoggiamolo sulla sede dell'ingranaggio. Ora inserire l'albero nel foro del leveraggio e spingerlo sino a quando esce dall'altro lato della scatola. Facciamo la stessa operazione con il secondo albero. Inseriamo il blocchetto, lo mettiamo in posizione e poi spingiamo l'albero fino a che non esce dall'altro lato. Gli alberi vengono bloccati e tenuti in posizione da due seggere a molla. Perciò montiamoli nelle loro sedi e poi spingiamo entrambi gli alberi in battuta con questi seggere. Rimontiamo le manopole. Mettiamo il leveraggio in posizione verticale mentre la scritta ENCO sulla manopola deve rimanere in posizione orizzontale. Ricordarsi che tra la manopola e la bisogna inserire una molla che spinge una sfera per poter tenere in posizione il leveraggio. Serrare quando in posizione la vite esagonale sul leveraggio. Le regolazioni precise possono essere fatte in un secondo momento dopo aver rimontato la scatola sul tornio poiché avremo accesso a tutte le viti di serraggio. Verificare che lo scatto della molla con la sfera blocchino il leveraggio nella posizione corretta e che gli ingranaggi si spostino senza attriti o difficoltà così da poter cambiare tutte le velocità. Il rimontaggio della scatola del mandrino è ora completato. Spero possa esservi stato utile. Grazie a tutti per la visione. Grazie a tutti.